Per decidere quale giocatore storico sarebbe dovuto essere il protagonista di questo nuovo video di NBA 2K, ho chiesto agli abbonati del canale YouTube di rispondere ad un sondaggio. E con uno schiacciante 75% dei voti a favore, il giocatore selezionato è stato Magic Johnson. Forse influenzato dalla recentissima serie dedicata ai suoi Lakers, può essere, ma anche senza avrebbe vinto lo stesso. Magic Johnson è stato un giocatore fenomenale, quasi rivoluzionario se prendiamo in considerazione l'epoca in cui ha giocato. Con i suoi oltre due metri d'altezza è stato infatti uno dei playmaker più alti della storia NBA, e forse è stato anche il primo esempio di giocatore adatto all'odierno positionless basketball. E dunque, come se l'accaverebbe Magic nell'NBA moderna? Scopriamolo insieme andando a simulare la sua carriera a partire dal 2024, su NBA 2K24. Dunque, come sempre la primissima cosa da fare è avviare un nuovo salvataggio MyNBA, tuttavia nella sua versione base, per evitare di ripetere gli stessi errori che abbiamo commesso nel video dedicato a Karim, storico compagno di Magic Johnson tra l'altro. Fatto ciò, andiamo a prendere il peggior giocatore nel draft generato automaticamente, ossia Dwight Jennings, importiamo il DNA della versione Rookie di Magic Johnson al suo posto, e simuliamo questa prima annata alla stagione 23-24, che tanto non servirà a nulla se non a decidere quale squadra avrà la prima scelta nel draft dell'anno prossimo. Mentre simula il primo anno, vi ricordo che tutti i giorni da lunedì a venerdì mi trovate in live qui su YouTube, quindi mi raccomando, iscriviti al canale per non perderti nessun contenuto live, short e video. Andiamo alla lotteria del draft per vedere quale squadra potrebbe potenzialmente scegliere Magic Johnson, perché non è detto che vada come primo. In ogni caso le due squadre con le quattro chance migliori sono i Rockets, i Rockets, gli Spurs e gli Spurs. Molta fantasia. Rullo di tamburi? Oh! Ok sì, con entrambe le prime pick. Mi sa che c'è stato uno scambio però, clamoroso comunque. E ora vediamo se i Thunder effettivamente vanno a selezionarlo con la prima, con la seconda, o se lo schippano e basta. Giocatore numero uno è Ronnie Manning, quindi clamorosamente non va per primo, ma con la seconda scelta viene selezionato Magic Johnson. Questi qua raga hanno appena creato un super team, perché hanno Shea, hanno Giddy, hanno Chad Holmgren. Hanno appena aggiunto questi due, non li ferma più nessuno. Oserei dire clamoroso, qua siamo davanti ad una futura dinastia. Mi raccomando, smash a like per questi Thunder. Shea, Giddy, Dort, Williams e Manning con Magic Johnson, sesto uomo. Per questa prima annata ci sta, è onesto. E cominciamo quindi a simulare anche questa seconda stagione, la prima per Magic, nell'NBA moderna. Chissà se sarà in grado di replicare ciò che ha fatto in real life, perché facile non sarà. 5 anelli NBA, 3 finals MVP, 3 regular season MVP, 12 apparizioni all'All-Star Game e 10 apparizioni nei team all'NBA. Settimo miglior assistant della storia NBA, comunque nella top 100 per punti segnati. Fare meglio sarà molto difficile. Giusto per curiosità, è finito nell'All-Star Team, pare di no, ma c'è finito Alperen Sengun. Molto bene, grazie TK. A fine anno, Luka Doncic meritatamente MVP con 30, 10 e 11. Potrebbe aver vinto Rookie dell'anno, dubito perché partiva dalla panchina e infatti lo vince il compagno Ronnie Manning. Ecco, però, Magic Johnson si porta a casa il titolo di sesto uomo dell'anno. Giustamente, è la terza guardia nelle rotazioni, ma ha fatto una grande annata. Non vorrei dire meglio di quella di Ronnie, ma siamo lì. 14 punti e mezzo, 5 rimbalzi e 7 assist e mezzo a partita. Per uno che parte dalla panchina non sono affatto male, soprattutto nella sua prima stagione da professionista. Forse ha avuto la sfiga di essere stato draftato qua, oppure la fortuna. E questo perché Oklahoma è stata la migliore squadra a Ovest con un record di 57 e 25. Ovviamente Magic finisce nel primo quintetto delle matricole. E ora vediamo come vanno questi playoff, a partire dallo scontro con i Phoenix Suns di Booker e Durant. Eppure James Harden? Ma c'è finito davvero o è soltanto una cosa successa nel gioco? No, ok, è una cosa del gioco per fortuna. Scusate, mi ero perso lo scambio di Lillard e Bucks, posso essermi perso qualsiasi altra cosa. Quindi vai, simula il primo turno, rullo di tamburi, ok sì che passa con un bel 4-1. Turno numero 2 contro i Los Angeles Lakers di LeBron James, rullo di tamburi sweepati. Qua la sua miglior partita è stata a gara 2 con 18-8-5, not bad. E ora è già finale di conference contro i Grizzlies di Jamo Reint, simula il turno anche qua sweepati di brutto. Giustamente Shea vince il titolo di MVP di finale di conference, con il nostro uomo che ha fatto la sua miglior prestazione in gara 4 con 15-9-9, più due palle rubate e due stoppate. E quindi è già il momento delle finals NBA contro i Cleveland Cavaliers di Donovan Mitchell. Simula la prima partita, vince Oklahoma. Magic Johnson con 12-6-6 nel suo primo game. Partita numero 2, raddoppio Oklahoma. Magic con una partita onestissima 8-7-7, molto ben equilibrata. E i Thunder continuano a vincere, in questo momento hanno perso giusto una partita in tutti i playoff. Magic che in gara 3 fa 19-4-8 con due palle rubate. E ora osserviamo gara 4, vediamo se Oklahoma chiude i conti oppure se si farà sopraffarre da Cleveland che cercherà di riaprire i giochi. Niente, ha vinto Cleveland 135-117. Forse Oklahoma vuole vincere l'anello in casa, siamo in gara 5 in questo momento. Primo quarto che va ai Thunder, secondo quarto che va ai Thunder, anche il terzo. Va ufficialmente a Oklahoma e regà, direi che ci siamo. Al primo anno è già campione NBA. Ultimi 10 secondi per Oklahoma che deve semplicemente lasciar scorrere il cronometro. Sono sopra di 32, è inutile che facciano niente. Signori, i Thunder sono ufficialmente campioni NBA. Clamoroso, clamoroso. Io regà ve l'ho detto, questo è l'inizio di una dinastia. Primo titolo per OKC che forse per almeno un altro paio d'anni ha lo spazio salariale per tenere tutti quanti. E ora splendori è il momento di rendere onore a un sacco di leggende del gioco. Lebron James, Chris Paul, il mitico Sergione Ibaka. E ora bisogna capire se questo gruppo di giocatori rimarrà assieme oppure se verrà smembrato, perché è possibile. Shea è qui, Manning è qui, Johnson è qui, ma sapete chi non vedo? Josh Keddie. A meno che non si sia infortunato, perché potrebbe essere rotto e no, non lo è. Scelta coraggiosa da parte di Oklahoma che però evidentemente ha deciso di puntare tutto quanto su Magic Johnson. Più 5 per lui durante l'offseason, sale a 87 di overall. E da adesso in poi secondo me inizierà a fare davvero molto molto bene. Come vi dicevo a inizio video, Magic Johnson è stato praticamente un pioniere di quello che oggi è chiamato positionless basketball. Ossia una filosofia di gioco che prevede che ogni singolo giocatore in campo possa ricoprire bene o male ogni singolo ruolo. E in questo sistema un giocatore come Magic Johnson, che è alto 2 metri e 0,6 e pesa 100 kg, ti può davvero ricoprire ogni singola posizione. Ha il cui cestistico e la visione di gioco perfetta per un playmaker. Ha il fisico per difendere all'interno come farebbe un centro. Forse non ha un buon tiro da tre, ma credo che quello sia colpa dell'epoca in cui ha giocato. 45-50 anni fa, Luka Doncic sarebbe stato un giocatore completamente diverso da quello che è adesso. E forse deve anche ringraziare Magic per questo, chi lo sa. Comunque, sarà stato selezionato per l'All-Star Team? Dubito fortemente. Non c'è finito, nope. Però è arrivato il suo compagno di squadra, Ronnie Manning. Magic come sta andando? 19-5-5-8. Ma sta ancora entrando alle spalle di Shea? Ma perché sta roba? Ma fatelo giocare, guardia, ma che problemi avete? Vabbè. Stagione 2 che si conclude con Evan Mobley, MVP, 17 punti e 15 rimbalzi, più 2 stoppate e mezzo. Quindi, ok. Forse non abbastanza per essere l'MVP, ma lo accetto. E comunque, Magic Johnson, back-to-back, sesto uomo dell'anno. 19-7-5-4-8-4, più una palla rubata. Grazie, aggiornamento, che sei apparso in mezzo alle balle. Gentilissimo. Giusto per sapere, qualche quintetto all'NBA, anche se dubito fortemente perché non scenderà mai in campo. Invece sì, è arrivato nel terzo nonostante sia partito dalla panchina. Minchia. Abbastanza clamorosa questa cosa, non me l'aspettavo. Nuovo giro, nuovi play-off, primo turno contro Houston. Oklahoma passa in gara 7, molta più difficoltà ora però che sì. Turno 2 contro Portland, passa ancora in gara 7, minchia che rischi. Finale di conference contro Utah, passa 4-2. Di nuovo Finals per i Thunder. E così come l'anno scorso anche quest'anno, le Finals saranno contro Cleveland. Partita numero 1, simulata, vince Cleveland. Dopo gara 2 pareggia Oklahoma che vince 127 a 126. Che culo. Gara 3 va di nuovo a Oklahoma, incredibile, regà. Magic con 25, 4 e 6. Questa sì che è una statline. Simula direttamente gara 5, vince ancora Cleveland. Aia. Di solito chi vince gara 5 vince tutto. Vedremo se servirà gara 7 oppure no. Rullo di tamburi, vince Cleveland. Comunque non malissimo nelle ultime due partite. È che dovrebbe giocare titolare. Si ritira il sommonfiondu cabengele con Magic che continua a crescere, regà. In questo momento è un 92. Un 92. Parte ancora dalla panchina per caso oppure titolare? No, parte ancora dalla panchina. Allora, fatemi un attimino intervenire. Perché va bene tutto, ma questa cosa è incredibilmente stupida. Sposta Shay a guardia e vassela dalla piccola. E ora il quintetto titolare ha molto, molto più senso, se permettete. Vediamo se mettendo il titolare inizia a fare delle grandi stagioni e se addirittura arriva l'All-Star Team. E signori, eccolo ufficialmente arrivato. Magic Johnson fa la sua prima apparizione nell'All-Star Team. E lo fa anche da titolare. Uh, Josh! Dove sei finito, Josh? Per curiosità, chiedo, eh. È finito a Charlotte. Vabbè, ci sta. Minchia con la melo. Match up tosto, eh, quello per delle eventuali finals. Decisamente tosto. E signori, guardate che cambiamento enorme che c'è stato mettendo il titolare. Magic Johnson MVP. 25 punti, 7,5 rimbalzi e 12,2 assi sta partita. 12,2 assi sono davvero tanti. Cioè, se tiene questo ritmo per tutta la carriera, ciaone. Non solo batte la sua versione precedente, ma potrebbe essere un potenziale candidato per il GOAT. Ovviamente anche primo quintetto all'NBA. Così come finisce nel primo quintetto difensivo, mi pare corretto. Oklahoma di nuovo prima in conference. Regà, sta squadra è una schiaccia sassi. Simula il primo turno contro Denver. Passa Oklahoma 4-1. 28,11,13 in gara 5, regà. Metterlo titolare è stata una scelta ottima. Torno 2 contro Minnesota, che viene eliminata in gara 6. E anche le finali di conference passano con estrema facilità. 25,8,7,13,5 con 2,6 palle rubate. Per Magic Johnson, che si becca l'MVP delle finali di conference. Durante le quali Oklahoma ha schiantato in 5 partite Portland. E ora, regà, finale contro Orlando. Simula gara 3, 3-0. Questi qua li sweepano nelle finals. Forse è la miglior simulazione che abbia mai fatto. Ed è solo la terza stagione. Gara 4 invece va ai Magic. Mentre gara 5, signori, finisce. Ufficialmente ai Thunder, che vincono il loro secondo titolo in tre anni di Magic. Contro i Magic, tra l'altro, top meme. E Magic vince il titolo di finals MVP. 25,6, 8 rimbalzi e 12 assist. Mamma mia, giocatore sontuoso. E ora la cosa che mi preoccupa è che questi due sono al loro ultimo anno da rookie. Potremmo perderne uno dei due, eh, in vista dell'anno prossimo. Sinceramente a questo punto io mi aspetto che qualsiasi squadra guidata da Magic Johnson possa stravincere il titolo, possa stravincere l'anello. E comunque seconda selezione consecutiva per Magic Johnson all'All-Star Team, che farà il titolare di nuovo nella squadra dei Anis. E nell'All-Star Team c'è arrivato pure Jonathan Kuminga! The Kambucket! Gran soprannome Kambucket, meraviglioso. Niente MVP back-to-back per Magic Johnson, perché lo vince Wimbaniama con 30, 14, 3 più 3 assist e 2,5 stoppate. Onesto. Davanti a una statline del genere non posso dire niente. E comunque giustamente Magic nel primo quintetto all'NBA, che conclude la stagione, con 28, 7, 7 e 10,5. Non male. 61, 21, il miglior record da quando è arrivato qui Magic. Ma non sufficiente per finire primo in conference. Cosa ha fatto Dallas? Cinqu... Ah no, stagione scorsa questa. Ok, 57, 25 per entrambe, ma scusate, perché Dallas è davanti così? Per curiosità. Forse sono gli scontri diretti, ma poco importa. Primo turno contro Memphis, simula dritto. Passa Oklahoma 4-3 col brivido. Secondo turno contro Houston. Vai anche questo, drittissimo! E invece Oklahoma è eliminata. Minchia, colpo di scena. Questo... questo non me l'aspettavo, sarò sincero. E niente, quindi per la prima volta no finals NBA per gli Oklahoma City Thunder, con Cleveland che vince un altro titolo NBA. Salutiamo quindi Teresa Crawford. E vediamo se effettivamente Oklahoma rinnova il contratto a Magic oppure no, perché c'è questa possibilità. Oh, non gliel'hanno rinnovato. Porca troia. Ma neanche al centro, ce li han lasciati andare via entrambi. Degli idioti, dei deficienti. Dove cacchio è finito mo? Dai, per favore. È finito a Denver per giocare nei Nuggets, che hanno una squadra abbastanza... Tolto Magic è un 95, abbiamo Jaden Ivy che è un 86 e poi il nulla cosmico. Quanto ti pagano almeno, giusto per sapere. Ok. Sono più o meno 40 milioni all'anno. Avresti potuto fare meglio. E comunque, mentre viene simulata questa sua prima stagione con Denver, vi voglio ricordare una cosa. Ossia che il sondaggio con cui è stato scelto Magic Johnson era rivolto a coloro che hanno fatto l'abbonamento Pepe Gotti Premium. Per altre informazioni riguardo gli abbonamenti, premete sul tasto abbonati nel caso vi ringrazio anticipatamente. E tenetevi pronti perché a breve potrebbe uscire un nuovo sondaggio. Aia, vedo cose brutte perché uno dei due capitani è il signor Ronny Manning, il nostro ex compagno di squadra. Che però, vecchio cuore, ok sì, Thunder va a selezionarmi al draft come secondo, però stronzo. E al termine della stagione 5 è back-to-back MVP per Victor Wembanjama, che sì, sorprendentemente ha fatto una stagione migliore di quella dell'anno scorso, che già sembrava impareggiabile. Con Magic Johnson che probabilmente è arrivato secondo anche quest'anno. Cioè che numeri ha ottenuto quest'uomo? 28-7-7-10, in realtà è peggiorato. Com'è possibile, Magic? E ora, primo turno contro Utah, il problema è che non la vedo bene, anzi, tutt'altro. Ma non è neanche colpa sua. Non ha la squadra che lo supporti, poverino. Pirla lui che è andato in una squadra che non può competere, però. Potrebbe essersi rovinato la carriera o comunque soltanto i prossimi 4 anni. E si ritira Damian Lillard dai Bucks, che ancora non riesco a vederlo. Cioè mi fa proprio strano anche semplicemente pensarlo o dirlo. Mentre Denver avrà preso qualcuno per aiutare il buon Magic? Evidentemente no, anzi, sono tutti in calo. Inizio ad avere la sensazione che di 4 anni in 4 anni quest'uomo cambierà squadra. Non chiedetemi perché, ma non lo vedo così fedele e così deciso a rimanere in un singolo posto per l'intera carriera. Anno 2030, stagione numero 6, quarta selezione all'All-Star Team per Magic Johnson. Ormai anche per lui questo qua mi pare abbastanza il minimo sindacale. Cioè mi stupirei di più a non vederlo nell'All-Star Team che a vederlo titolare. Farà mai il capitano? Forse sì, forse no. Non l'è stato nell'anno inca vinta MVP. Buona annata per Denver questa che conclude con un record di 52-30. Niente male. Ma c'è un Darius Garland che minchia. 33 punti di media a partita con 10 assist. E Chad Holmgren è finito a Brooklyn. Ma io dico, ma Oklahoma, Massivo Uomo, avevi uno squadrone enorme e hai perso tutti. E il buon Magic continua ad essere sempre e costantemente la seconda scelta nei team all'NBA. Sapete cosa vuol dire? È un eterno secondo nella gara all'NVP. Quest'anno ha fatto esattamente 30 punti di media con 7 rimbalzi e 10 assist. Perché non l'ha vinto lui? Ha tirato pure 41 da 3. E il punto è che Cleveland è arrivata prima a Est, mentre Denver soltanto seconda a Ovest. Che ingiustizia. E ora c'è la sfida delle sfide. Magic Johnson contro Victor Wimbaniama. La differenza è che lui è supportato da Scoot Anderson. Noi da Desmond Bain, DeAndre Hunter e Jared Vanderbilt. Insomma, vai di cattiveria, simula turno. Minchia, 4-1. Inaspettato. Emoci tocca affrontare i Suns di Luka Doncic e Devin Booker. 4-1 Phoenix con Luka Doncic MVP delle finali di conference. Non ha giocato male Magic, anzi per niente. Avrebbe potuto fare meglio, sì, ma contro quei Suns non poteva nulla. E anche se fosse passato probabilmente si sarebbe schiantato contro Charlotte guidato da Jalen Green. Pure lui ci hanno a posto. Intanto si ritira Luca Garza. E attenzione perché all'età di 24 anni Magic Johnson è in calo. Perché sta stronzata, scusate? Io non capisco perché un 24 anni dovrebbe iniziare a calare già adesso. Comunque poco importa. Denver ha aggiunto Donovan Mitchell, che però ha 33 anni. E vabbè, ripperotti. Stagione 7 nomina numero 6 per Magic Johnson, sempre come titolare. E signori, welcome back. Magic Johnson è MVP nella sua settima annata in NBA. 27,7 punti, 7 rimbalzi e 11,7 assist. Non la sua miglior stagione, eh. Per niente, eppure gli ha bastato per vincere quest'anno. In effetti poi non sto guardando i quintetti difensivi, però per quanto ne so potrebbe esserci finito. Non me lo dice, perché no? O comunque Denver ha aggiunto anche a Debaio. Bello! Cioè sarebbe bello se non fosse il 2031. Comunque Denver quinta in conference. Quindi simula il primo turno contro Houston che l'anno scorso ci ha fatti fuori. E ci facciamo rimontare un 3-0, non ci voglio credere. Il tracollo è iniziato da gara 4 dove ha fatto 26 e 14. Poi 32, 3 e 13. 26, 14, 9. E infine nell'ultima partita ha fatto 27, 8 e 11. No, non ha fatto male. Semplicemente non ha fatto abbastanza. Che rosicata comunque. Si ritira il sommo, l'unico e inimitabile Giovanni Ferrari. E voi direte, tier, chi è Giovanni Ferrari? Non esiste Giovanni Ferrari. Però guarda che faccina, non è simpatico. E regà sta cominciando a calare anche in altri aspetti. Pure il tiro da 3 cala. Insensata sta roba, totalmente insensata. Vabbè, questa potrebbe essere l'ultima sua stagione con Denver, eh comunque. Non penso abbia rinnovato sinceramente. Soprattutto considerando i risultati della squadra potrebbe pensare di andare altrove. E signori è successo. Stagione numero 8. La sesta selezione di Magic Johnson all'All-Star Team. Avrà anche l'onore di essere il capitano. Peccato che Denver stia facendo schifissimo. Abbiamo vinto soltanto 20 partite finora. E nonostante la brutta stagione della squadra che ha concluso con un record negativo di 38-44, Magic Johnson vince il suo terzo MVP personale. 27, 7-6 e 11 assist. Regà, letteralmente la sua statline nella vita reale, quella dei rimbalzi degli assist, ma non quella dei punti. Quella dei punti è nettamente più alta. E regà, clavorosamente Magic Johnson vince anche il titolo di giocatore Clutch dell'anno. Bellissima sta cosa, meravigliosa. Ovviamente primo quintetto all'NBA perché, cioè, è giusto che ci finisca lì l'MVP. E continua a finire anche nel quartetto difensivo. Secondo me, c'è finito dalla prima stagione in cui è apparso qua dentro. È che non me lo dà. Non me lo dà tra i vari premi, tra le varie cose vinte. Io sono veramente sorpreso da questo titolo MVP perché solitamente alle squadre che arrivano decime, o meglio, ai loro giocatori non danno mai l'MVP. Quindi, bè, simula la qualificazione, dobbiamo vincere tutte e siamo già fuori. Benissimo. E dopo aver salutato Lonnie Walker il quarto, ma soprattutto il signor Angelo Conti, stiamo a vedere se rinnova con Denver oppure se cambia squadra. 3, 2, 1, se n'è andato. Ed è arrivato qui Ronnie Manning! Il suo ex compagno di squadra di Thunder, mamma mia, che incastro incredibile. Tutto molto bello, è tutto molto interessante, ma J.G. Monson dov'è adesso? È finito ai Sacramento Kings con Devin Vassel, con cui ha ottenuto un anello un paio d'anni fa. Un paio, ormai sei anni fa. Ed è calato ancora. È solo un 93. Perché? Posso dire che sta cosa mi fa imbestellire, perché non ha il minimo senso. Cioè, anche se andiamo a guardare le sue informazioni. Età di inizio picco 22, età fine picco 34. Perché sta già calando mo? Vabbè, va. Simula questo primo anno che sarà altrettanto disastroso, ma puoi andare in una squadra che abbia almeno un'altra stella, fra. E niente, dopo essere stato capitano l'anno scorso, quest'anno se lo può scordare? Ma è stata comunque la prima scelta al draft nella sua settima apparizione allo Star Team. Comunque Grant Hood e Reed Temple sono proprio nomi di NPC generici, incredibile. E mamma mia, io più vedo queste schermate più penso, ma cosa ha combinato Glaoma? Presenza fissa nel primo quintetto all'NBA in questa stagione che ha chiuso con... 23, 7 e 9. Farate, che merda. Sacramento ha clamorosamente fatto un'annata positiva, tipo concluso con 48 e 36, una roba del genere. No, 46 e 36, se no i conti non tornano. E comunque, primo turno contro Minnesota. La squadra di Josh Gadey non ha il gene Clutch Magic Johnson, è assurdo. Sarà la ventesima volta che gli vedo perdere gara 7, non ce la faccio più. E raga, tristemente devo annunciare il ritiro di Ross Cross. Che nome fichissimo, Ross Cross. Certo, i tuoi genitori sono un po' dei pezzi di merda, però gran bel nome. E inizia ora l'annata numero 9 per la quale Sacramento non si è mosso in alcun modo per migliorare il team. Se arrivano a giocarsi le qualificazioni al play-in, sono fortunati, ma... Squadra Ronny. Che cazzo è Ronny, scusatemi? Ronny... Ah, Ronny Manning, me l'ho dimenticato della sua esistenza, è vero. Mamma mia, guardate sta schermata. I due capitani e la prima scelta al draft sono ex giocatori di OKC. Se li avessero tenuti assieme, stipirla. Leggermente a casaccio, ma Lamelo Ball MVP per Memphis? Trento Bryant. Trento Bryant. Giusto per capire, cioè Lamelo cosa ha fatto? 22-3, 6-3, 10-4. Mentre Magic ha fatto 22-5, 6-2, 9-6. Ok, vabbè, ci sta. Leggermente migliore la stagione di Lamelo, ma minchia, davvero ha tirato 50% dal campo. E comunque Sacramento ha concluso con un record di 41-41, e quindi dovrà giocarsi la qualificazione contro Yu da rullo di tamburi, passa Sacramento, che però si fa eliminare dai Clippers. Bene! Quest'anno invece si ritira già Red Vanderbilt. E ora entriamo in quello che è tipo il terzo anno di contratto con i Kings, vero? Yep, gliene rimangono altri due, ok. Vi ricordate quando tipo 8 minuti fa dissi che dalle squadre di Magic Johnson mi sarei sempre aspettato la lotta per il titolo? Ecco, ritiro tutto se posso. Mi aspetto una lotta per il play-in. Magic Johnson, capitano dell'All-Star Team, e c'è il signor Trento, grande Trento! Vabbè, comunque, 9 All-Star Team su 11 stagioni, se contiamo che le due in cui non l'ha raggiunto non era neanche il titolare, non male. Ed è incredibile come quest'uomo invecchi come del buon vino. Halliburton, MVP del 2034, all'età di tipo boh, 87 anni, 35. Magic Johnson che conclude l'anno con 19,8, 7,2, 9, no. Frate, ma che succede? Forse Sacramento non è il posto giusto per te, io mi leverei dal cazzo. Sto giocatore è in giro da praticamente l'inizio di sta simulazione. Ho appena realizzato che il nome è Scott con una sola T. Che, che, che... Ah! Che rega, anno di grandi ritiri. Ci salutano Iani Santedo-Cumpo, Adebayo, Donovan Mitchell e soprattutto Senso Pacciani. NBA 2K24, io non so cosa tu mi voglia comunicare, ma lascia che si ritiri per bene il signor Senso. Vabbè, andiamo avanti, schippa, schippa! Ultimo anno di contratto per Magic, cosa dice? Se ne vuole andare? Boh, evidentemente no. Lui vorrebbe rimanere, ma lo diceva anche delle altre squadre, quindi vai a capirlo. Secondo anno di fila con Magic Johnson, capitano dell'All-Star Team, tipo la terza volta in 12 anni di carriera. Ma soprattutto, rega, parliamo delle cose importanti. Abbiamo Dick e Kuminga nella stessa squadra. Attenzione, forse ce la fa Sacramento. Ce l'ha fatta, è ufficiale, una stagione positiva. Che comunque non basta perché Kate Cunningham è l'MVP. Magic Johnson, come sempre, nel primo team all'NBA, con il signor Trento! Bravo, Trento. Attenzione, Sacramento Sesta, una squadra guidata da Magic Johnson, non passa il primo turno da tipo Bo e Oni. Simula il primo, ooooh, fuori per mano dei Lakers. Eh, ma ho capito, quest'uomo purtroppo predica, non dico nel deserto, ma quasi, 25, 4 e 13. 16, 5 e 2, ok, no, regali, tiro tutto, ha fatto schifo lui sto giro. Io non sono il tipo di persona che si scandalizza per queste cose, ma Jason Tatum ai Lakers non si può vedere. Un salutone anche a Lucas Finlay, che purtroppo non è diventato una star. E il buon Magic avrà cambiato di nuovo squadra? Oppure sarà effettivamente rimasto a Sacramento? Scopriamolo insieme. Se n'è andato! L'ha fatto! Ha unito le fo... Ah no, sono tutti giocatori, stavo per dire. Minchia, che esagerazione. No, no, ok. Comunque è andato ai Bucks, chi c'è? Nessuno ai Bucks, bello. Eeeh, ma signor Magic Johnson, ma cosa stiamo combinando? Questa è la terza o quarta volta di fila che fa il capitano dell'All Star Team. Il punto è che magari raccoglie tanti voti perché è un giocatore popolare, ma le squadre in cui gioca... Insomma. Mamma mia, che stretch finale di stagione. 45-37. Per i Bucks di Magic Johnson che vince il suo quarto MVP. Clamoroso. 25-4, 7 e 10 assist e mezzo con due palle rubate. Minchia, eri ingiovanito all'improvviso. Tra l'altro, pure con la matricola dell'anno, Cam Nicholson. Minchia, dominata. Pure difensore dell'anno? Eh? Ammetto che difensore dell'anno non me l'aspettavo Magic Johnson. Beh, positivo. Questo è un titolo che in real life non l'ha mai vinto. Ovviamente anche primo quintetto difensivo, Luigi Bianco. Luigi Bianco, va che baffetto. Mamma mia, che giocatore clamoroso, Luigi Bianco. Come cazzo hai fatto a finire nel quintetto difensivo, tu? Vabbè, Luigi, non faccio domande, sono contento per te. Bravissimo, Gigi. Primo turno contro l'Atlanta che abbiamo battuto più di una volta durante la stagione. Simula? Eh, che cazzo. Eh no, eh. Oh, è successo. In gara 7 mi fa 21-7-9 con un buon cast di support. Bravi. Round numero 2, Indiana. Indiana è la prima in conference, mi sa che non passiamo. Oh, erano sopra 2-0, hanno perso 2-4. Minchia. E non sta neanche facendo partitone, eh. Sta amministrando, non sta facendo troppo. E quindi finale di conference contro New York. Dai, gara 1. Va Milwaukee. Gara 4. Va ancora Milwaukee. Gara 5. Milwaukee è in finale. Cazzo, regà, cazzo. Ovviamente si prende il titolo di miglior giocatore delle finali di conference, 22-7-9. E ora è il momento della finale contro i Timberwolves. Di Anthony Edwards è una serie di sconosciuti e Regen. Gara 1, lupi contro Cervi. Simula game, vince Milwaukee. Magic Johnson con 19 assist in gara 1. 19! Gara 2. Pareggiami in esota. Gara 4? Eeeh. È finita. Mamma mia che peccato, che rosicata. 4-2. Questa forse era la sua ultima chance di fare qualcosa di davvero molto buono. E signori, ci saluta il nostro vecchio compagno di avventura, il buon Shea. Ora devono per forza aver preso dei rinforzi. E sì che li han presi. Cacchio, anzi no, si è riforzata da sola. Forse alla fine riesce davvero a beccarsi il terzo titolo, clamorosamente. Dipende tutto quanto da come va quest'anno. Anno 2038... 37... Anno? Magic Johnson di nuovo capitano dello Star Team. Peccato, purtroppo non è stato sufficiente. Scott Cooper die con 22 punti e mezzo. 17 rimbalzi e 6 assist. Più due stoppate. Giocatore clamoroso, Scott. Ovviamente Magic Johnson che finisce nel quintetto all'NBA numero 1. E chiude la stagione con 22-7-9. Sì, ok, ci sta. Wizards contro Bucks. E passano i Bucks 4-0. E ora la sfida contro Miami che era prima in conference. Simula il turno. L'ha rimontata di nuovo. Non ha segnato tanto, ma ha assistito tanto. Quindi di nuovo conference finals MVP. E ora a finale contro i suoi Lakers. Mamma mia. Dovesse vincere qui il terzo rello sarebbe abbastanza romantico. Quindi partita numero 1 va a Milwaukee. Partita numero 2 che va ai Lakers. Partita numero 3 che torna di nuovo a Milwaukee. Per un punto. Partita 4. La vince Milwaukee, regà. Questo potrebbe essere il suo primo titolo conquistato praticamente in autonomia. Completamente da solo. Nessuno gli potrebbe più dire niente. Vabbè, gara 5 l'ha minta ai Lakers. Facciamo finta che non esista. Milwaukee vuole vincere il titolo in casa. Minchia come sono partiti. Come sono partiti bene. E con soli 5 secondi alla fine, regà, possiamo considerare concluse anche queste finals. Milwaukee Bucks che vincono il loro secondo, anzi terzo titolo della storia. Guidati da un eterno Magic Johnson che clamorosamente porta un'altra squadra all'anello. Non l'avrei mai detto, ve lo giuro. Eccolo qua, eccolo qua col suo finals MVP. Va che bellino. Quindi questo è il suo secondo finals MVP. Ha vinto 4 MVP, ha vinto 3 anelli. È leggermente meno rispetto alla sua controparte reale per il momento. Però gli manca ancora qualche anno di attività. Signori, salutiamo il comeback Jonathan Cuminga. E ora è ufficialmente iniziato il periodo di calo per Magic Johnson. Allora, già che ci siamo. Magic Johnson secondo. Almeno in questo modo lo possiamo distinguere dall'originale Magic Johnson. E questa è la sua quindicesima stagione. Siamo già oltre il numero di stagioni che ha giocato in real life? Mi pare di sì. Minchia, di nuovo capitano. Ormai da lì non lo scogli. È diventato un'icona di questa Lega. E la cosa che mi fa sorridere è che attualmente gli unici tre giocatori realmente esistenti siano già Morent, Anthony Edwards e Kate Cunningham. Forse c'è anche Scoot Anderson. Vuol dire che siamo verso la fine della sua carriera ufficiale. Il signor Scott con una sola ti vince un'altra MVP. Belle stats, quindi corretto anche se un pochettino rosico. Perché comunque Magic ha fatto 21, 6 e 10, che male non è. E soprattutto l'ha fatto per una squadra che è arrivata prima in conference, quindi niente male. A maggior ragione con Cleveland che è arrivata decima, quindi bè. Primo turno con Orlando, rullo di tamburi. Magic elimina i Magic e ora va ad affrontare Brooklyn. Turno numero 2. Bucks eliminati. Passano i Nets. Peccato sarebbe stato carino vedergli vincere due titoli back to back. E invece vincono i Kings. E signori salutiamo Josh Gidey. Ma soprattutto Malak e Branham. Che cacchio è? E perché hai giocato qua per 17 anni? Com'è possibile? Tra l'altro questo dovrebbe essere l'ultimo anno di Magic che potrebbe decidere di ritirarsi poi. E intanto si conferma capitano dell'All-Star Team. Ma la cosa che più mi sciocca qua dentro è il signor Cliff Perry che alla prima apparizione fa il capitano. Cliff, amico mio, cosa stai combinando? 26, 4 e 6. Com'è possibile? Da dove sei venuto fuori tu? Ah, boh. Bravo Trento che vince il suo primo MVP. Bravo, signor Trento. Come sempre primo quintetto all'NBA. 22, 7 e 11. Beh, bella annata questa in realtà. Magic, perché non hai vinto tu? Forse te lo saresti meritato. Questo giro Bucks sesti in conference. Primo turno contro Charlotte che ha concluso il terzo posto. E passa Charlotte. E ora guardiamo i ritiri. Non si è ritirato. Quello però l'ha fatto il signor Aria condizionata Wagner. Ah, cazzo, è vero che tra l'altro gli è scalduto pure il contratto. Chissà dove è finito mo'. Mamma mia, che giocatore romantico. È tornato a Oklahoma lì dove tutto ha avuto inizio. Ha firmato per tre anni che a questo punto, suppongo, saranno anche i suoi ultimi tre. Che giocatore romantico, signori. Cambia la squadra, cambia la conference, ma non cambia il fatto che Magic rimanga comunque il capitano dell'All-Star Team. Mamma mia, clamoroso. Magic Johnson vince il suo quinto MVP di questa simulazione. 23 punti, 7 rimbalzi e 10 assist. Con quasi due palle rubate. Ma quest'uomo non... Fausto D'Angelo! Anche giocatore Clutch. Minchia. Io non vorrei dire, ma potrebbe, e dico potrebbe in questo momento, aver ufficialmente superato il Magic Johnson originale. MVP a 35 anni, nonostante il settimo posto di Oklahoma, che deve qualificarsi ai playoff, e ce la fa. E oh mio Dio, sono passati il secondo turno contro San Antonio. Niente, schiantati, come non detto. C'ha il fatto di averli portati lì praticamente da solo, è abbastanza impressionante. Chi si è ritirato quest'anno? Oh, signor Dick, arrivederci! Il punto è che teoricamente ha finito il suo periodo di Prime, e quindi dovrebbe pian piano cominciare a calare, ora che ha 36 anni. Forse la sua ultima grande stagione, questa? Come sempre ormai, capitano dell'All Star Team, mi sto quasi stufando di continuare a ripeterlo, però... Bravo Magic! Ed evidentemente devo soltanto starmene zitto, perché all'età di 37 anni, no, ancora 36, nel 2042 Magic Johnson vince un altro MVP. 23 punti, 7 rimbalzi, 10 assist. Minchia. Primo team all'NBA, come sempre, continua a vincere anche uno slot nel miglior quintetto difensivo. Non ho più parole per descriverlo, quest'uomo, è indescrivibile, è indecifrabile. Elimina Denver al primo turno in sette gare, secondo turno contro Portland sotto 4-1. Addio a OKC! E chissà se nel suo ultimo anno di contratto con Oklahoma, che, ripeto, penso possa essere effettivamente il suo ultimo, perché dubito vada a rinnovare all'età di 38 anni, vediamo se riesce a portarsi a casa un altro clamoroso MVP che sarebbe il settimo, il settimo! Oh, wow, che sorpresa, diciassettesima apparizione all'All Star Team, non me l'aspettavo proprio. Io non ci voglio credere. 25, 8 e 11, è immortale. Sette dannati MVP, tra l'altro a distanza di 16 anni dal primo questo. Il tutto con Oklahoma quinta in conference, simula il primo turno contro Denver. 4-1 Oklahoma che deve giocare l'ottava classificata Memphis. Che gran botta di culo. E invece niente, Oklahoma a casa. E ora, signori, il momento della verità. Si sarà ritirato? Incredibilmente non ancora. Si ritira Uembaniyama, si ritira il nostro ex compagno Ronnie Manning, ma lui continua imperterrito. Ed è ironicamente finita i Wizards, ovviamente Magic da chi va dai maghi, dagli stregoni. E signori, è finalmente successo. Dopo 21 anni di carriera, Magic Johnson si ritira dal mondo del basket. Nell'arco di 21 stagioni ha tenuto una media di 23,8 punti a partita, 7 rimbalzi e 10 assist. Rispetto alla controparte reale ha fatto 1,2 assist in meno e 0,2 rimbalzi in meno, ma ha anche fatto 4,3 punti in più di media a partita. E non ho moltissimi dubbi a riguardo, ma credo che sia finito nell'All of Fame, giustamente. 7 MVP, 19 apparizioni all'All Star Team, un difensore dell'anno, due volte sesto uomo dell'anno, 20 apparizioni nel quintetto all'NBA, di cui 19 nel primo e una sola nel terzo. 19 apparizioni nel primo quintetto difensivo, regà, un mostro. Premesso che non ho idea di cosa abbiano fatto tanti giocatori da il 2024 fino al 2045, con 40.639 punti con la classifica che abbiamo oggi a settembre 2023, sarebbe primo per punti realizzati. Sarebbe ventiquattresimo nella classifica dei rimbalzi ed è un playmaker, vi ricordo. E oltre a essere primo per i punti, regà, sarebbe anche primo per quello che riguarda gli assist. Infatti ne ha fatti 17.134, Stockton in real life è il primo con 15.806. Vabbè, comunque un giocatore fenomenale, regà, un giocatore fenomenale. Sicuramente uno con una carriera così sarebbe considerato il GOAT, quindi il migliore di tutti i tempi. E per rispondere alla domanda iniziale, sì, nell'NBA moderna ci starebbe bene, non a caso, l'avevo previsto.